Si è aperta con la commemorazione dell'atleta Paolo De Crescenzo la seduta odierna di consiglio comunale. L'ex allenatore e campione di pallannuoto scomparso recentemente a 67 anni è stato ricordato nell'aula di Via Verdi alla presenza di familiari ed amici. Cresciuto fin dagli anni 70 nella Canottieri Napoli e divenuto nell'83 allenatore del Posillipo, De Crescenzo ha ottenuto da atleta e da tecnico numerosi riconoscimenti anche a livello mondiale, concludendo la sua brillante carriera all'acqua chiara. In suo onore un minuto di raccoglimento in aula ed il ricordo nelle parole dell'assessore allo sport Ciro Borriello. Era d'obbligo secondo me, secondo il sindaco e il consiglio tutto ricordare la figura di un grandissimo uomo ma soprattutto un grandissimo uomo di sport. Paolo è stato veramente una persona straordinaria, nel suo palmaresse ci sono risultati sportivi straordinari ma quello che abbiamo cercato di ricordare oggi di Paolo era la sua grandissima statura di uomo anche al di fuori dello sport. Quindi abbiamo deciso di riservargli questo spazio ma soprattutto la voglia di dedicare a un grande uomo di sport nella massima rappresentanza istituzionale, ossia all'interno del consiglio comunale, il suo ricordo. È stato un grandissimo piacere da parte nostra potergli dare questo tributo, la famiglia era emozionata, questa per noi è stata la più bella cosa, vedere quegli occhi, vedere soprattutto quegli occhi che ricordavano un grande uomo di sport ma anche un grande uomo. La seduta consigliare è proseguita con la comunicazione da parte del sindaco dei magistris delle nomine di Maria D'Ambrosio e Alessandra Sardu con deleghe al Verde alla qualità della vita e alla trasparenza e all'efficienza amministrativa che hanno sostituito in giunta gli assessori Daniela Villani e Salvatore Palma.